Ciao a tutti e bentornati qui a Radio Pugini On Air. Come ogni settimana fa il suo ritorno nel prime time della domenica, che tempo che fa? Il talk più amato della tv, che con il suo padrone di casa Fabio Fazio ci intrattene ormai da anni, portandoci a conoscere volti unici dello spettacolo nazionale e internazionale. Il programma serale più di successo su 9 e Fabio Fazio ospiteranno oggi, domenica 28 aprili, le volti all'apice del successo e artisti imperdibili, cominciando da una grande cantante romana e arrivano a un grande scrittore al centro di un importante dibattito e una giornalista tanto amata dal pubblico. Nuovi ospiti, quindi, della puntata di oggi di Che Tempo Che Fa? Arriva proprio a Che Tempo Che Fa? su 9 e l'amatissima conduttrice Francesca Fagnani, la giornalista che ha reso il suo programma di interviste belve un vero e proprio tormentone, capace di garantire scoop sensazionali ogni settimana e mettendo sotto torchio i personaggi più controversi o influenti dello spettacolo italiano e non solo. Recentemente ha fatto molto discutere per interviste avvolti come Fedez, Loredana Bertè, Salvini, Simona Ventura, Antonella Clerici e molti altri. Riuscirà a calarsi quindi finalmente nei panni dell'intervistata un ritorno a casa per la moglie di Enrico Mentana che proprio sul canale 9 aveva realizzato le sue prime interviste con belve salvo poi spostarsi in Rai dopo la mancata conferma dell'emittente targata Discovery. Il collega Fazio la metterà in difficoltà come è abituata a fare lei con i suoi intervistati? Non ci resta che scoprirlo dopo il suo arrivo in puntata. Quel che è certo è che molto probabilmente risponderà alle accuse mosse da striscia alla notizia che sostiene che la donna sfrutti la sua trasmissione per fare pubblicità ad una linea di gioielli. La quota romana non finisce però qui. Oltre alla bionda conduttrice arriva anche una cantante molto amata più volte in gara al Festival di Sanremo che arriva in puntata non solo per promuovere la sua esperienza come conduttrice per il Festival del 1 maggio ma anche per presentare il suo nuovissimo single Non ho bisogno di te. Stiamo parlando di Noemi. Prepariamoci ad ascoltare quindi nuova musica live dalla cantante scoprendo cosa ha pensato per noi di realizzare per noi oggi. Chiude la lista dei superi ospiti il chiacchieratissimo scrittore Antonio Scurati recentemente vittima della misteriosa cancellazione della sua ospitata su Rai 3 che sarebbe collegata al monologo che l'uomo aveva deciso di recitare in diretta. La vicenda ha generato un vero clamore mediatico portando ad una nuova ondata di dissenso verso il comportamento dei vertici televisivi Rai. L'uomo è diventato un vero e proprio fenomeno del web dopo aver ceduto il suo monologo a Serena Bortone perché lo leggesse comunque in diretta e ci aspettiamo che adesso ci dia la sua versione sulla faccenda dandoci qualche dettaglio in più sui recenti risvolti con la Rai. Oltre agli ospiti della serata la trasmissione manterrà la collaudata scaletta garantendo il consueto mix di intrattenimento e approfondimenti alle 19.30 andrà in onda Che Tempo Che Farà seguito alle 20 da Che Tempo Che Fa e Che Tempo Che Fa il Tavolo. Gli appassionati dello show potranno godere della presenza di volti noti come Luciana Litizzetto, Filippa Lagerbach, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la signora Corriandoli e Francesco Paolo Antoni. Ma parteciperanno alla puntata anche Elio Germano, Lilli Gruber, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Tito Boeri, Ferruccio De Bortoli, Massimo Giannini, Zainab Dosso, Francesca Fialdini, Giobbe Covatta, Enzo Miccio, Giovanni Esposito, Simona Ventura per un divertimento assicurato. Quindi la nuova puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Luciana Litizzetto, Filippa Lagerbach e tanti altri ospiti andrà in onda proprio questa sera, domenica 28 aprile, alle ore 19.30 circa sul Canale 9 e in streaming su Discovery Plus, un appuntamento imperdibile che si preannuncia ricco di eventi e rivelazioni. Qui a Radio Puginion Air è tutto, ci sentiamo ad una nuova puntata di Radio Puginion Air. e qui a Radio Puginion Air. Grazie.